Mi sono preso una buona mezz'ora, anzi una buona oretta, ho mangiato con calma, sono uscito per una passeggiata, perché ho tirato giù di tutto, di tutto ho tirato giù, di tutto. Udinese Juve termina 2 a 2, sono già due punti persi, ho visto una buonissima Juve, è questo che mi fa arrabbiare, a differenza degli altri anni dove ho visto una Juve arrancare, oggi ho visto una buona Juve. Ho visto una buona Juve buttare via la partita con due errori singoli, perché alla fine sia il rigore di Pereira che il secondo gol sono due errori gravi di Scesni, che ho sempre difeso e che reputo comunque un grande portiere, ma che è evidente che abbia problemi in questo momento di testa, perché due gol veramente regalati. In più c'è il fattore sfortuna, perché comunque il gol di Deleufeu è regolare per una questione di millimetri, gli stessi millimetri che rendono irregolare il gol di Ronaldo. Quindi è una questione di fortuna perché sul 2 a 1 abbiamo preso due pali clamorosi, secondo me la Juve meritava la grandissima questa vittoria e ha buttato via due punti. La cosa che mi fa ben sperare, ho visto dei bei segnali, ma Allegri dovrà lavorare tanto sulla testa di molti giocatori, su tanti giocatori. Dispiace perché questo 2 a 2 manda all'aria una buonissima prestazione della squadra. E vabbè, era la prima di campionato, forse meglio così, perché le migliori Juventus che mi ricordi hanno avuto delle partenze a volte anche un po' faticose, e quindi è giusto forse così, è meglio così. Meglio così che partire a razzo e poi dopo finire malissimo e quindi adesso però con l'Empoli non dobbiamo più fallire, perché già abbiamo sprecato subito una buona possibilità di far punti, regalando veramente un punto all'Udinese che, ripeto, secondo me questa volta non meritava. Pazienza, ci lavoreremo, ci lavorerà Allegri, ho fiducia in questa squadra, penso che la prova sia stata più che positiva. Di ballo un ottimo primo tempo, un brutto secondo tempo, Scesni nettamente il peggiore in campo perché ha avuto due occasioni dove doveva far vedere qualcosa e ha fatto due papere e questo rende la partita buttata via, in poche parole. Io vi saluto ragazzi, vi do appuntamento con il prossimo video, arriverà tra poco, sarà un video informativo su Juventus Under 23 Pro Sesto, anzi Pro Sesto Juventus Under 23. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.